Secondo me abbiamo giocato di squadra molto bene, poi da chi viene il gol non importa, abbiamo fatto una bella partita, è stata dura perché lo sapevamo che il Mozzanica è una squadra ostica e quindi per me segnare è sempre bellissimo, però sono contenta per la squadra. Sorprese dagli altri campi perché questo pareggio in estremis della Fiorentina a Verona sicuramente non tutti se lo aspettavano. No, io non me lo aspettavo assolutamente, però come ho detto non ci sono due squadre da battere, sono tutte squadre molto difficili, quindi per noi è meglio che la Fiorentina abbia pareggiato, però vuol dire che il Verona è un'ottima squadra e quindi dovremmo fare molta attenzione. Sembra già un gruppo molto amalgamato, come è avvenuto questo nel giro di poche settimane? Ma diciamo che ci conoscevamo un po' tutte, tranne le straniere, penso che il mister sia stata molto brava ad unirci, siamo un bel gruppo, ci divertiamo, sorridiamo tutte insieme, questo fa molto.